Parliamo dell'oroscopo e cominciamo con il segno dell'arriete. Alcune dissonanze astrali suggeriscono un inizio di giornata rallentatore, almeno per quanto riguarda umore e forma. Se oggi tutto vi appare faticoso, staccate la spina. Toro, finalmente saprete sfoderare le vostre armi migliori, prendere decisamente in mano le redini di ogni situazione. Grazie alle stelle sarete in grado di risolvere una grande difficoltà in ambito professionale. Gemelli, senza essere esaltante, la giornata comunque scivola via pacatamente. Nel tran tran quotidiano scoprirete piccoli motivi di gioia o di piacere. Cancro, le idee non sono del tutto chiare. Rilassatevi, presto vi renderete conto che tutto viaggia nella giusta direzione. Avete nella dolcezza una chance formidabile per appianare morbidamente uno stupido maninteso con il partner. Leone, di fronte a un disagio emotivo, capirete in fretta cosa fare, cominciando a non coltivare paure e dubbi per finire con l'aprirvi a chi vi vuole bene. Vergine, approfittate della favorevole disposizione di spirito per recuperare i rapporti un po' traballanti. Un dono del partner vi sorprenderà piacevolmente. Ricambiate con quello che avete a disposizione un mare d'affetto e passionalità. Bilancia, qualche questione d'ordine burocratico o fiscale vi costringe ad ingranare la retromarcia e a fare un passo indietro, vietato sbuffare. Scorpione, siete pieni di energie e di creatività. Questo giorno non ve lo dimenticherete. Fate solo attenzione agli amici con i quali potrebbero esserci dei problemi o comunque delle tensioni. Sagittario, un ritardo nei vostri programmi e la necessità di tenere a freno l'impazienza potrebbero rendervi un po' nervosi. In caso di indecisione, l'esperienza vi aiuterà a fare la scelta giusta. Capricorno, non mettetevi a competere laddove sapete in partenza che vi è impossibile vincere. Dimostrerete maggior buonsenso e astuzia ritirandovi finché siete in tempo. Eviterete così anche una brutta figura. Acquario, parlare non costa niente e oggi dire le cose giuste al momento giusto potrebbe fare la differenza. Agevolare anche delle opportunità. Sotto il profilo professionale godrete di un'insolita e fortunata ispirazione. Pesci, questa giornata sarà tutta dalla vostra parte. Vi regala dosi massicce di comunicativa e di simpatia grazie alle quali riuscirete ad essere sempre in una posizione di vantaggio rispetto agli altri.